Un manovratore di 54 anni, Francesco Zampella, dipendente di Trenitalia, è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di domenica alla stazione centrale di Napoli, mentre era impegnato nella manovra di un convoglio. L'uomo, soccorso, è stato portato subito all'ospedale Loreto Mare, dove però è morto poco dopo il ricovero a causa della gravità delle ferite riportate. Secondo quanto si è preso, l'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio non lontano dalla zona platea di lavaggio. Sembra che l'operaio, originario di Nola, per cause ancora in corso di accertamento, sia finito per terra schiacciato tra i respingenti di due vagoni. Gli agenti della polizia ferroviaria e del compartimento di Napoli hanno ascoltato subito dopo alcune persone per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.